Ciao a tutti e bentornati al mio canale, oggi sono qua con mia figlia che mi ha convinta a giocare Roblox per la prima volta Ciao! Sto imparando a camminare come vedete Mamma mia Non lo so come mai, sono salita qua sopra Perché... Ah! Va bene, allora Io dovrei arrivare all'interno, vediamo come faccio Ti aiuto mamma! Aspetta, aspetta Allì qua? Aspetta, ok così Corre Allora dove puoi correre? Ok Oh mamma mia il turbo, mi sono messo il turbo qua Per andare più rapido Più... Più veloce Si più veloce Si me ha scordato Ti sei scordata Oh mamma mia mamma mia Adesso mi fermo, mi fermo, mi fermo, ok Ok, allora Va bene In pratica qua è dove dove volevo iniziare il video In pratica sto in un parco giochi Questo è il mio outfit No, aspettate No, non può levantare di là Come faccio a far vedere il mio outfit così? Ok, questo sono io, mi sono messa una malattina Mi ha aiutato Mi ha aiutato io No lo ha detto No lo ha fatto lei Lo ha fatto io Va bene Lo hai fatto tu Ah guarda il sole Perché io sono anticapata con queste cose qua Allora E io ho già stato cercando di camminare E mia figlia ha giocato un po' prima di che io iniziassi E la idea principale è andare A giocare A giocare va bene Ok Qua a me mi sta tirando molto l'attenzione quel coso lì E devo risalire Però prima di salire andiamo a fare un diretto Così io imparo un po' camminare qua Un piccolo diretto Que magari è un po' camminare qua E' un po' camminare qua Ciao No lo so che cuesta Vabbiamo 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 In pratica vorrei andare da la piscina Però Cosa c'è qui? Ah tu prima stava qua non? Si Io stava qua Però non c'è niente di acqua Non c'è niente dell'acqua Non c'è niente dell'acqua Allora L'acqua dove sta? Qui Solo qui Qui quindi? Puoi saltare Si io salto Oh mamma mia Ok Non voglio Ok Listo Mamma mia Te aiuto ma? Non faccio il mio Non faccio il mio Eh io tra due secondi che devo andare a vedere in cucina Perché sto cucinando pure Jokarai tu Un attimino Va bene Ok Aspetta, aspetta Mi sembra che io sto imparando a andare veloce di fronte Ok Ok Mi fermo, mi fermo Adesso cammino un po' di là Ok Ok Diciamo La mia Quello che dovrei fare io adesso E cercare di imparare a salire su queste scale perché non ce la faccio Te aiuto mamma Aspetta mamma Oddio, odio, odio Oddio, no, no, aspetta No No Mamma mia Come fanno no? No Aspetta, aspetta Aspetta Perché io voglio imparare Il fatto è che io da piccola Non ho avuto nintendo Non ho avuto niente di quello Perché i miei erano E io sì Tu sì, tu ce l'hai la Playstation E abbiamo giocato E... Come si chiama quello che abbiamo fatto fuori? Ah, io non so Minecraft Minecraft, ok Stavo giocando Minecraft E quello che mi piaceva tanto Fino a che un giorno Ho fatto volare tutto per l'aria E da quel giorno non abbiamo voluto Ok, mia figlia mi sta dicendo in spagnolo Oh mamma mia E poi mia figlia parla di solo spagnolo Che italiano Per l'italiano lo capisce perfetto Oh guarda, già sto imparando Oh mamma mia Io capisco perfettamente Capisco perfettamente Però non parlo molto bene Va bene? Oh mamma mia Non mi vuole succedere quasi Oh mamma mia Aspetta Ok, ok Ok Oh mamma mia Ma quella Scusi Si dici permesso E non ti danno passare così E dobbiamo essere rispettosi Anche qua Oh guarda questo qua Ok, ok mi sembra che ce lo faccio Oh ciao sei bianco Oh no no Oddio Oddio Aspetta Le altre due tre scali Ah no ancora Oh mamma mia Perché sembro così Ok 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 E perché queste persone stanno così in quelle bolle? Io voglio venire più di vicino Perché? Ah perché Guarda questo uno sopra l'altro Allora Ciao Ciao Salta Che brutto che sei Va bene Allora andiamo a giocare qua Allora c'è un colore Giallo Blu 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 Il mio colore preferito Ok Ok Oh mamma mia Dall'altra parte Allora vi dico che questo canale non diventara per giochi No No mamma mia Io volevo da sola No mamma mia No mamma mia No mamma mia Ok Io volevo da sola Vabbè le sto dicendo che questo Come salto? Come esco di qua? Devo saltare così Ok Vabbè O non mi dire che devo resalire con la scala Si No dai ti prego Si Vabbè Vabbè Però aspetta, aspetta Io solo Io sono Io volevo fare qua lo blu guarda qua lo blu No, però io solo Io solo ve andare E Vabbè 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 Camina molto meglio di me Perché io armai mi palliera la testa Ok Allora è stato chino che questo canale non diventara di video Soltanto oggi perché siamo in quarantena A volte non c'è niente da fare Abbiamo studiato tutto il giorno Ma tutto il giorno Abbiamo fatto Il compito del conservatore Il compito della scuola Abbiamo educato l'oca Il gioco dell'oca O dell'oca Abbiamo dovuto ballare Zumba Ma quella perché il professore Educazione fisica ci va a chiedere Quindi ha dovuto ballare la zumba E quindi dovevamo Ah guarda che carino Dobbiamo fare cose diverse Oh mamma mia Ah lo so Questi quelli che vanno su e giù Questi li ho visti Non lo Io non so Cioè a me piacciono i parchi a tutti Mirà aspetta 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 Ah che bello E dove sono? E la barca? Qui in fondo Però Oddio Se la arriva Ah ok Ok va bene Queste sono le che sto notando E sto notando E come faccio E questo che ho fatto Per guardare giù Ok Ok Listo E adesso Cercherò di uscire da sola Ok Sono uscita alla piscina Ok questa sarebbe quella piscina lì A me piacciono tanto tanto le piscine Ah tu vuoi andare al sole Come al sole? Tu vuoi andare al sole? Prendere un po' di sole? Si Alla si va bene con questo E questo? Si si io prendo il comando martiria Aca 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 E cosa devo fare? Faccio così? Oddio Che ho fatto? Ah apriamo qua Ok va bene E questo qua è per fare tipo il picnic Si Oddio che sono scostumata Sono salita sopra Ah mi sono seduta E non so come ho fatto Quello lo fai tu sola Ah da sola? Si da sola Ok va bene Io voglio andare da la Come faccio per uscire di qua? Ok non so Per saltare Si non salti Non saldrai Guarda qua ci sono altre scale Si però non hai niente d'acqua Non c'è niente Però così mi alleno un po' a salire qua Ah ce l'ho fatta Oddio Oh mamma mia Aspetta Aspetta Oddio 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 No no di là Ok andiamo a salire per vedere che cosa c'è Questo sta Ah soltanto questo Si No Anzi 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 какую parte No Anzi 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 Non Lassi Anzi 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 guarda! 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 però io volevo giocare io però adesso che mamma sei scaricato sto giocando io fammi parare! dai faccio io no mamma lo fare io se no come imparo e ormai sono negata a fare questo va bene e dove sono? ah in un tunnel ah questo è carino ah ci sono altri ragazzi, aspetta fammi uscire ah con un salto e cammino si ciao volete fare una nilar? e io posso parlare con loro? no perchè altri parlano inglese ah certo perchè prima dicevano che c'erano 7000 persone qua ma io volevo andare al mare ah questo è il chat si per parlare con tutti ah no no io non voglio parlare con nessuno qua di eso perchè quindi come faccio io per uscire il cuore no 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 177 177 per guardare allontanarmi da l'altra parte così no 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 così no però io così 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 mamma mia oddio aspettami viene il vertigo allora io vado così ciao pianino mamma mia aspettami aspettami come fai a correre così dritto perchè 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 sei l'ordinatore il computer computer chiusura pamma mia omo fa aspetta così dritto un pochettino più in la vediamo un po' qua E va bene, niente, mi sembra che... Ah, se io l'ho accendito qua, guarda, come fa? Oh, mi sa che ho imparato. No, 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 no. Ok, va bene, io adesso da sola. Ah, quindi io sono comparsa qua e sicuramente quando ero comparsa... E là? Che cosa c'è? Ah, niente. Oddio. Ah, ci sono scale? Aspetta, ci sono scale. Ci sono scale? Per entrare qui. Per entrare che io voglio guardare che cosa c'è, ma che non sai andare così. Come cosa c'è? No, però sei notato perché io... Ah, c'è un'altra. Per vedere se ho imparato perché io ormai devo chiudere qua il video. E che devo aspettare, che loro se ne vadano? Oddio, mi ha abbracciata. Ah, qui, tiene che darle clic, ahi. Clic, ok, clic, io faccio clic. E poi... È un barco! Ah, però se ne vanno loro, senza di me. Quindi io sto con loro... E che quello! Non sono andata io da sola. Da sola. Ah, no, c'è la ragazza. Oh, mamma mia. Oddio. Mi sento con me. Vediamo se riesco a notare. Ok. Ok, va bene, io penso che è un barato. Ah, ok. Come ho fatto prendere il sole? Non ho idea. Che? Io mi voglio sedere. Stand up. Ok, così. Va bene ragazze, il video finisce qua. Io adesso l'ho faccio mia fila che giochi un po'. Ormai questa è la mia prima volta. Jocando. Jocando. Non sa camminare. Oddio, non lo so. Io non so dove sono. Ah, eccomi qua. Aspetta, per rialzarmi così, no? Sì. Ok, niente. Aspetta, fammi farle... Come faccio io per girarmi? Aspetta, che io voglio essere così. Ok, così però girando verso di me. No, no, ok. Così per salutare. Ok, così. Ok, va bene. E questa cosa non si può togliere? La limonata di qua? No. Va bene, allora. Va bene, ciao ragazze. Io vi mando tanti vestiti. Oh, mamma mia. Spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo prossimamente in un prossimo video che sicuramente non sarà di videogiochi. Va bene, ciao. Bye.